abbassa la sella un pochino? no forse non è necessario è arrivato il re di guardare se posso frenare 12 metri di un altro esatto esatto se poi frenai dopo tutto lì ecco gradone vai senza freni bravo esattamente perfetto bene e questo è una storia difficile ma a te piacciono così fantastico questi sono un po più meno grip anche più piccolo ce l'ho anche più larghi li ho messi più piccoli perché battono meno però guardalo senza freni guardalo come la fa correre guardalo 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 buoni Sì! that's it one Joe that's it whoo 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 the 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 terrei meridissima ok le resisto vai vai ok scusami ok 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 il principe del trail il re del gradone e il principe del trail grande grande ma c'è il l'inerzia se smetti di pedalare un attimo ti dovrebbe mandare su guarda eh si ma dovrebbe avere su plus cioè l'inerzia se tu smetti di pedalare continua a spingere oh oh se non c'è il bari messo forse l'octavotto oh 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 buongiorno 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 grazie buongiorno grazie oh 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 grande guardalo non c'è ostacolo vai eccolo lì dai gliene dai gliene vai grande vai grande Gente oh 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 grazie a tutti Grazie a tutti.